No, non lo so, sai Potrebbe essere way bot Lucian mid Per strike Però io ve lo giuro Allora, parlo a tutti Quelli che ci stanno ascoltando Se voi giocate in chanter Se voi giocate in chanter No, 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 no Non dire sciocchezze Non dire sciocchezze Ma comunque si può vincere Devi stare Cioè, chi è bravo di là? Nessuno? C'è qualche bravo player? Forse Theory è l'unico Semidecente L'ortoplaner Credo Kaisa Kaisa? No, Kaisa è patetico Ma il nostro mid Era autofillato Non ha detto niente Abbiamo proprio il mid Era autofillato Madonna santa Il loro support No, no, bro Bro, bro Lucian Lucian, l'ora di carry E otti più udir Bannato udir È il tizio di prima È il tizio di prima Che avevamo conto Eh, non puoi perdere La lì incontro con tpi udir Cioè, l'ha diviso Anche il loro support Bro, sto giocando Bro, ma Hanno due autofillati Hanno due autofillati Gli avversari Due autofillati Bot Sì, ma la loro bot Hanno due autofillato Tu sei bravo bot Vinci sta partita Io spero veramente Ha fatti bot Questo Agamos Enjoy Che te lo giuro No, ma glielo diciamo Di fare patting bot, ragazzo Cioè, nel dubbio Ma in game Ci vogliamo mutare Per try and dare Secondo me conviene Allora, per me va bene Io sono affillato Quindi non ho bisogno Di focusarmi in realtà Non funziona così Come no? Scusa Quando ho giocato affillato Tu flippi il game Nella speranza Devi essere carriato Pro, al mio alist Ieri Almeno un 7 Più se lo meritava O sbaglio? Il tuo alist Il tuo alist era patetico Madonna santa Ma che cazzo vuoi? Ti ho fatto Ma che cazzo vuoi? Era proprio una merda Grazie Se vuoi mutarti Fussare Puoi farlo Io sto a posto Mi smuto Se ti devo insultare A dopo A dopo Va bene chat Stavo rimettendo la web Anche in game Stamattina non so perché Non l'avevo attivata E... Ok Andiamo con Shen Ok Carry invade Questi potrebbero imbadere Guys Ora sono un eroe Metto la ward Per il mio amico Jungler Potrebbero avere In basso Tranquillamenti Ragazzi Alistare di Piscale Ronsè Meno meno Possono fare anche Late invade High play bot Ecco la nostra Nami Meno male che l'ho pingata Ragazzi Meno male che a sta troia Ho detto che avrebbero fatto invade Meno male che ho fatto 16 ping Meno male che la nostra Rene haffi Sulla torre Invece di Mettere la visione Dove andrebbe messa Oddio il loro udirato fillato E' l'udirato fillato E' la mostra dell'udirato fillato E' la mostra dell'udirato fillato Che ci fa traddare Sull'invade No bro ma perché fai cleanse E' un animale Sei fischello E' proprio un animale Sei Attenzione Orianna Arriva Bam Mili range Mili range Orianna Bam 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 Mi distrugge tutti Orianna Col mille range Guarda Orianna Ma che sta facendo Orianna Mili range Ma io non ci voglio credere No vabbè No 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 bro Non sto vedendo Quello che sto vedendo Dice anche FF E penso abbiamo una malattia Gravissima Gravissima Devo concentrare Chat posso dire una cosa Mi devo concentrare Ma i gatti hanno fatto cacca C'è puzza di cacca Del mio gatto Non riesco a concentrare Vabbè Sono spillato Però devo andare a FF Un attimo Devo levare la cacca del gatto Se non muoio Il nostro mid lane E' un inter Bene Oddio E' un inter Qua Lasciano che il loro ego Rovini le partite Ma i mid Esterminal Oh un altro dottore Ragazzi C'è un altro dottore C'è Non ho maxato Poi mi vedo Al 5 Devo maxare Non l'avevo ancora maxato Ah Sto fuso Sto Io l'avevo avvisato Non potevo romare Certamente Ah Peccato Stavo andando un consiglio Nami Chilla 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 Io non stavo mica flammando Sì Si apre Sportello No sì C'è uno sportello Se non è finito Non si apre Ma C'è uno sportello C'è un tasto Ora No c'è lo sportello Però io li odio tutti Dal primo all'ultimo Li odio Tutti Lo vuoi libero Appena te vado suicidando Sì Tutti li odio Tutti Eh questi cos'hanno abbastanza malati Però sì Ho notato Io mi concentro Però li odio tutti Volevo Volevi Lair it out Lair it out Sì 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 E vanno già a me Vero Lair it out Lair it out Nami è andato Da fuori Guarda è andato Sta nami è Particolare Dovevo aspettare che lui Splizzasse quella Quindi per questo Rommato Sad part Abbiamo perso bot Nonostante le mie ulti Però It's ok No Va bene Va bene Le abbiamo la chat Questi sono dei Veramente malati Purtroppo Ma lo devono aiutare Sono il tizio Già sta trollando Vorrei mid Da jarvan Sono solo Diecisest No Pensavo molto peggio Pensavo Pensavo Abbiamo frizzato la mid Abbiamo frizzato la mid Eh purtroppo Non faccio tempo A rigancarlo Peccato Devo tornare top Farmi una Grazie Acchegames Mamma mia Mamma mia Ragazzi Questi Mi stanno un po' Stressando Però Dobbiamo Tenere la calma E chillare Loro jungler E' veramente Scarsa Penso anche Alla robot Il game In realtà E' molto Vincibile Vediamo un po' Vediamo un po' Sono affillato Si sono affillato Molto male Molto male Ragazzi Ma non è sufficiente Questo Sadly Potremmo prendere Molto di più E' veramente Strano Il tizio Si è preso La Cioè Forse La parte Più peggiore Fatto E questo Qui Gioca Jungle Per Intare Il game Sosed Onestamente Ora Quei Gioci Arbano Ravante Scarsa Sono Donna Santa Ma più che altro c'è Perché Orianna Si è messa A trollare Il livello 1 Dove Il livello 2 Il livello 1 Il livello 2 Eccetera Eccetera E poi libera tiltato E ha smesso di giocare bene E ha iniziato a runnare Da un po' di lui Ma bravo Ma tutto a posto Ma Just play the game Bisadattati Maledetti Lascia down Magari lo prendiamo Dai Lasciamo la piscella Magari lo shut down Guarda dove va Guarda dove va La torre senza vita Lui va a suicidarsi Io non so che dirvi Ragazzi Perché trollano Boys Perché trollano Perché trollano Ragazzi Perché Io sono autofillato Per vedere Se trolle il game Ma Che palle Guarda Sta nami che parla Quando è imbecille Pure Madonna mia Non ce ne è uno Sono di mente A parte me Impazzisco Scusate ragazzi Scusate ragazzi Scusate ragazzi L'altro video è proprio una free win Sto game Vado a dare un attimo mid Anche se non so se riesco Bene Ora ti sto aiutando Non ho niente da fare Cosa pinghi? Cosa pinghi? Devo aspettare la wave mid E devo aspettare la wave top Cioè E mi pinga Però aiuto e mi pinga Non mi aveva preso sto spell Non mi aveva preso Nami Sei sicuro del tuo position? Dimmi il positionista Nami Dove va? Per levare una ward Ah non devo pensare agli altri Non devo pensare agli altri ragazzi Scusate È difficile non farlo Quando veramente tutti trollano È il game di allo basso ma E il fatto di essere autofillato Non mi aiuta minimamente Però Si può fare dai Cerchiamo di venire concentrati Per quanto si può Però non sono scherzi vestiti Grazie Corgo Vabbè ma che c'entra Vabbè io ero autofillato Cioè No 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 Poi Nami no Vabbè ma non è importante Non è importante Fatemi pensare a me stesso Non è che dovete infierire Ricordandone il game di Blitz Ok? No piscale Ma per cosa? Vabbè It's fine Pantone R That's ok That's ok Cosa ci prendiamo? Avrei tu fra Ersil Ma penso sia tu later Per farlo Quindi Vado al dare top Vado Mi uso al drago Sarebbe importante Da prendere Ma non si riusciremo Vediamo No mi non puoi dare controllo Asso sai vero? Non è Ho pensato ci fosse una build qua Ho sbagliato? Ho sbagliato Sì Ah piscale l'aveva presa La wave back Perché non c'era Mi aspettavo Rianna Lo tose mi do Vabbè Eeeh 50 gold all'item Push un'altra wave La R Voglio prendere Vestatore Ma voglio prendere Anche item Per il fight Quindi va la base Sto guardando Non c'è nessuno D'altare ancora Non c'è nessuno Nice, nice Dai che pregio Arma è uscita magari Arriba Olaf, arriva Olaf, arriva Olaf, arriva Olaf, arriva Olaf Servia di tippare Era il donna che rompe la torre, non mi metto Prima riusciamo a difendere la jungle che non avremmo difeso Quella qui ve la lasciamo a piscello Non c'è bisogno però Ezzere le gude Vinciamo Possiamo fare anche il Baron Quella è bot Jarvan era lo health Abbiamo preso il Giarbano Impediamo di entrare nel pit Bene Dai that should be game, meno male Science upper, ma c'è di blitz Però non so perché ho giocato così male blitz Ti giuro non sono bad Cioè forse non ho giocato troppo tempo, te l'ho detto È stato strano quel game è stato Ma certo che è recuperato Ma gli avversari sono degli animali di livello infimo Era illegale perdere sto rank Cioè sarebbe stato illegale Perdere Gli avevamo regalato la win Poi sono talmente scarse Sono riusciti a trovarla Vediamo se riesco a finire sto campo L'arrivo negli avversari Mettiamo 6 ore ma E' da tutta la squadra si gode Andiamo a pusere un nuovo il top E l'orola pure è imbarazzante comunque Ma non c'è uno di salva di là Sapete quale è la parte più goduriosa Non solo aver cambeccato Ma non solo vincere sto game Ma non aver doggiato E piscale voleva doggiare questa partita Perché un doggio abiuso è ratto di merda Per ora bene direi Abbiamo fatto una win carriata Una lose in cui sono stato un bot Ma ero doffillato Almeno la mia discolpa Anche se sono stato veramente tremendo e inguardabile E questa qua che dovremmo aver recuperato in teoria Non posso passare per ora Non serve che io passi Sapete non poter passare Mannaggia me Vabbè Potevo farmi i cazzi miei Invece no Aspettate un attimo Levo la cacca del gatto Che mi sta uccidendo Atentamente Che mi sta uccidendo Oh cab Che ho fatto Che ho fatto Sbagliato Ci sono Ci sono Ci sono Perdonati Pronto a altare quando volete Stavo monitorando la situazione Boys Ma quanto vale Non serve la mia ult Almeno non per ora Perché ho la fanno Un trad Allo Dovresti tradare capo Boh Strambo il ragazzo Veramente 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 un individuo strano Ragazzi Ti consiglio di Segnare la cosa All'autorità competente Scrivendo un bel Gitgood Nel nostro live No Uncitamento all'odio Non si fa ragazzi Non è neanche detto Che pari trade adesso Ora siamo a livello pari Quindi Ok La situazione Però Olaf con le Q Mirano down Credo in realtà Non pensi per vincere Contro di lui Se avessi preso Airsteal Magari Vabbè Sti cazzi Non dovrei nemmeno provare Onestamente Lui ha tre item Ora Va bene così Particolare il pantheon No Vabbè Sprecato ma In realtà Bene così Perché sennò Non ci sono occasioni Per ultare Sto I miei avversari Sono dei bot Vado a prenderla Quei top Dai Usciamo dove Contemporaneamente No Non facciamo niente A meno che A meno che La mossa di Shen Il ragazzo Non ha capito niente Non ha capito Però se Se l'avessi buildato L'Airsteal Mannagina No 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 Fragula Not like this Però sto C'è So broken Se avessi buildato L'Airsteal Sarei immortale Sarei con L'Airsteal Mannaggia E farei danni Di Cristo Solo che Sono tonto Non l'ho buildato Can we End this Eh bro Stai giocato recentemente Magari lo utilizziamo In fretta il game Vedo Un po' di MR La prendo Dai Sono comunque Con way di là Ero salvo Eh Sì Però Potrei aver esagerato Mai vedo Mai vedo 50 MR TP up 5 gold Scammati Bam Oddio no Ragazzi Ma lo sa Ma perché Non funziona Così di Gov Legends Siete un in meno You just go back You just go back Vabbè Non è morto Comunque per fortuna Solo che abbiamo Un po' sprecato La sua vita Non sembra voler Recollare Volibear Non si cura nemmeno In giungla Però è un po' Confuso i ragazzi Ora Questa bubble Di Nami Potrebbe aver salvato Fiscallo che è intato No Fiscallo è intato Lo stesso Eh ma Fiscallo è stato Lo spazzo Nello spazio Poteva prendere Il Brutrinket Qua Mannagina No Dove vai bro Ma perché Cambia dentro Quella cosa Ma ti pare Amichevole Ti pare Quella Spell per terra Dai che Vabbiamo Sono asce Non è importante Vabbè Ti ho aiutato Per tu Spero tu sia contenta Bravo Rihanna Madonna Ma poi chattano bro La cosa peggiore è che chattano questi La cosa peggiore è che chattano questi Stai Ma perché Ho riattivato la chat Prima l'avevo disattivata Perché ho visto che questi qua Avevano una malattia Perché ho riattivato la chat La cosa peggiore è che La cosa peggiore è che La cosa peggiore è che Però guarda se toluchano Sì Sì Va bene così Il drago è free Hello Hello Mi smuto così ti tipo quando ho un tag me Poi siamo il Drake Lascia per draggianna che vinta Ora questo qua Allora fa breve ulti up Di nuovo penso Non serve nemmeno a faiatare Non so abbiamo una malattia cerebrale Comunque questi player Assolutamente no Veramente sono basito Stava doggia da capo Veramente Ma Dobbiamo rischiare di perdere Cioè in realtà siamo free win in realtà Ancora ora Quanto manca il baron bro È quasi scaduto ok Penso che Rihanna runni down qua Quindi sarebbe meglio se non lo facesse Ecco qua Rihanna è suicidata Come ti dicevo Non suicidare please Anche tu Ovviamente Guarda la top lane Potrei tippare Se riesce a stoppare Però 17 secondi mi servono Quindi non è poco Però penso che possiate andare Io ho anche ulti up Consiglio Quindi 10 secondi E ti posso ultare Eh tippa la top Continuando No 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 Aspettami aspettami Ho la ulti Ho la ulti La uccido 3 secondi Vai Va bene va bene Andiamo a toppandare Che squadra particolare ragazzi Non mi diverto comunque A giocare Assurdo Ma questo game Era di un livello Penso veramente Era di un livello Ma di un livello Questo game Che raggiungeva dei Non lo so Picchi particolari Ma tutti quanti Non ce n'è uno Non abbiamo finito comunque No temo di no E dove andiamo? In base Prendiamoci la jungle Andiamo a base E poi giochiamo Baron Però questa La mica chat Le vorrei Se fosse avanti a me In game Contro Le darei fuoco Con ignite Piccolo Non ti abbattere Pisco Non ti abbattere Sono strami Ma non ti abbattere Comunque c'era la jungle Da prendere No lo so Ma ho i god Gioco per tempo Eh vabbè Tanto dobbiamo aspettare Il baron Per andare Però va bene Oddio Ho item Bene Ci siamo Ci siamo Carichi carichi Fiammella rossa Fiammella rossa Se rimettono Prima ero Alzato un attimino Scusate Se prendo questa O la poz Faccio in tempo Sì Sì però Nami è in una posizione Scomoda Ah ma che bene Ma io purtroppo Troppo ho trovato Abito Di niente Adversile Ah sì Sti cazzi Sono one shot Raven Ma comunque Scenna è totalmente Unbalanced Sì sì è troppo forte Questo sta beccando Questo Io ho la r App Ah ok Ti guardo Ti guardo C'è Pantheon still Da qualche parte Sono qua Qua non c'è Dovremmo andare No Questi che stanno facendo Guardali guardali Vengono su di me Che cosa fanno Che cosa fanno Che cosa fanno Che cosa sto vedendo Bro Sembra Betta vuoi giocare Il tutorial di lol No no Qua devo fare Delle nuove amicizie Qua devo fare Delle nuove amicizie La mia mamma Che vorrebbe Gire il tutto Cioè Voglio giocare sto game Qua C'è da fare Delle nuove amicizie Per forza ragazzi No mate Poi quando li ho insultati Gli ho pingato Otto volte Di dei vaghi Quella cazzo Di torre E erano tutti Affan cool Qua C'è da fare amicizia Aspetta Andiamo Andiamo un paio Di prendere questo Qua la situazione è molto grave Molto grave Ma secondo te no 17 LP Ah no aspetta aspetta Andiamo a ASAP Andiamo a ASAP Perché poi devo andare Ah è vero è vero Devi andare via Facciamoci l'ultima game Allora Io posso finire I game con 20 kill E non divertirmi Cioè io I game che ho finito 27 24 2 Non mi sono divertito Eh ma Questo qua Era il livello più basso Che vediamo da Penso una settimana Non so Questa parte Era incredibile Guarda non ce n'era uno Che si salvava Stui Vabbè andiamo avanti Andiamo avanti Ragazzi penso di fare più 17 Meno 23 Ma tu quanti LP prendi e perdi Ho preso più 19 Aspetta Più 19 Sì più 19 Meno 21 Meno 22 Però Io con Affle Questa c'è il profilo di Yumi Yumi Nami più giocati E flammava Io li ho mutati tutti Perché No Allora Io ho un paio di problemi Con i master picker Uno Se avrò una bocca È finito Cioè il game è finito Eh ma devi levare la chat Io Mi sto divertendo Senza chat Sono una bomba Guarda Non so perché l'ho riattivata Aspetta Senza chat Intendi che non puoi neanche scrivere Non so perché 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 non so